Ragazzuoli è tempo di sfida, se questo video dovesse arrivare a 5000 mi piace entro oggi Ragazzi faremo risfidare nuovamente Busta e Itzy in 1v1 su playground Vi ricordate che è finita 3-0 per Busta ma Itzy ovviamente non ci sta a perdere 3-0 Quindi direi che si potrebbe riorganizzare una nuova sfida ovviamente se lo volete vedere Altrimenti la faremo noi off camera tranquillamente e sappiamo noi come finirà, non è un problema Ma se volete vederla in video mi raccomando basta semplicemente cliccare il mi piace Così che io capisco quanti di voi lo vogliano, così capisco quanti di voi lo vogliono e quanti no E niente, tutto qua ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, 5000 mi piace Prossima settimana, o comunque in questi giorni qua, un po' prima di prossima settimana Uscirà questo 1v1 in playground, Itzy contro Busta, la rivincita Buona visione 1 team, 2, 3, 3, 3 ce n'è uno anche alto Eh bello pieno, stessa casa eh, non so dove vai ma stessa casa Io questa qua piccolina Poi vado ancora a sinistra, se no non luto una sega Prossima settimana Prossima settimana Siamo sul tetto Solo pump, vabbè non è male 16 bianco Ovest c'è gente, io non ho armi da lontano 48 43, 43 42, quello ha 30 di vita Quello di fronte, però ho 3 medi Purtroppo ho solo 3 medi Quindi apro sta cassetta Eh, te pareva Eh, 3 medi Vabbè Questo qui ha ove sul tetto Mi hanno preso da 150 Montagna Eh, 1 hit, quello sulla montagna Ho finito i colpi, 0 medi, se no moriva questo Andre, stanno qui Eh, non posso sparare da lontano Devo per forza avvicinarmi tantissimo C'è uno con la doppietta, occhio Nice Mi salvano medi, bro Hanno pensato a una torretta Siamo finiti Comunque quando fai le kill ti dà vita Ah 88 in testa quello, ok GG Ah, se kill ti dà vita? Sì, sì, se kill ti dà scudo e vita Sì, è buono Eh, quindi ti... Hai colpito un po' 30 Eh, semmeno vi vedo il pompo Grazie Ti servono colpietti di qualcosa? Cioè, ho 40 medi Quello, insomma, è un po' un casino Ti servono colpietti di qualcosa? Medi, bro Solo medi Dei cazzo di medi Eh, ti servono già, ok Medi Eh, ma per un secondo C'era tantissima gente Effettivamente sì Altri qua davanti, eh, Andre Avevo Shottato due volte Sono due Occhio Uno dietro la roccia 14 Bravo GG Bravo, bravo C'è la dinamite qua se vuoi Sì, lo vedo 23, ce ne 4 Cosa? Abbiamo già fatto tutti i punti per le kill 8 kill, buono Ora dobbiamo andare a piazzamento Quindi io vi eviterei anche Eh sì, possiamo anche evitare di fai dare Cioè, proprio solo Solo se ci vanno Ci vengono incontro Prove A noi ci facciamo sti 9 punti E recuperiamo la partita di prima Eh sì Volano est Easy Noi ce ne andiamo in safe Prenditi qui Un'ombra Noi ce vengono vai il problema è che qui non possiamo farmare e almeno 5 di legno non mi manca poco lo vediamo bordo veramente pochi materiali c'è mille e cinque se trovi uno che sa fightare troviamo che sa fettare un casino non ti basteranno mai ombra ombra si lascerei sì sì no finché non se mi sparano io ho 600 materiali cioè gravissimo 800 ai danno si può andare a clinnare se riusciranno se poi ci arriva altra gente io sono uguali erano proprio facili da itale una due volte easy proprio entravano con la cappa però non troviamo ad andare troviamo 36 36 36 ok 336 allo stesso un atterrato abbiamo abbastanza rotto quando due band c'è uno scar c'è uno scar d'oro ma io sono ok lo avevo shotato a bestia bella bravo arrivo morto però mi ha preso è porco giuda si mi ha preso altri qua 74 l'ombra 43 però mi hanno rotto altri dietro c'è l'ombra qui davanti a noi che è proprio senza vita sarà immobile sarà immobile eccolo lì se si è tolto 43 bravo andrea ma in realtà non è male questa cosa che se fai le kill pendici ti spingono ti spingono un po a farle kill 77 zio la bomba buona 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 sta fuori ci arriviamo io 555 553 comunque abbiamo che il lato un bel po' comunque cazzo fina abbiamo clinnato quelli sono arrivati altri due team da dietro ma ti pare due funghetti mi risparlo perché io mi sento guanitto se ho 125 se non arriviamo a fare i punti mi incazzo c'è più punti di quelli che abbiamo adesso non crediamo più proprio perché è proprio uno spreco della madonna secondo me ci abbiamo tutto ci abbiamo forse non ci abbiamo lì ring non ci abbiamo pure 10 band appeso un rampino ora tema con le cure ora mi prendo un paio di di funghi se ci sono ad arrivare a 150 abbiamo inserito andrea che arriva mi prende pure non ci ho fatto caso non ci ho fatto caso mi prende sicuro e comunque la gente vedi cioè sa giocare si vedono le bill fight quello fermo a 3 4 5 ce l'era uno fermo 3 4 5 proprio lì era strato era tutto fuori proprio stava piccando est ancora ancora no prima era tutto 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 proprio in piedi sulla base non so un pazzo da antia a me però non ci conviene fai da perché poi ci clean hanno tutti però ma infatti ecco lei ha visto che è successo poco fa c'è anche c'è la san giocata bene ma no c'è la san giocata bene ma è rischiosissimo quello che ci avessimo preso un team davanti a uno solo se poi si speriamo in due neanche gli diamo il tempo di girarsi vai andiamo si forse 33 33 33 34 34 e su cavolo uno dietro di te l'altro ci penso io 42 42 42 buona bro vabbè ma che forte cazzo delle stelle ninja e lupo abbiamo i mini comunque bro le ha droppate lo stronzone qua io c'ho uno scendone e bevi ah ma è un mini fanculo beh lo bevo ah allora va davanti a megafight ho preso due vende abbiamo un cazzo di cura chi è? eh sto sperando questi qua qua davanti tanto per dargli fastidio peccato se moriamo qua sono tre punti di kill ok abbiamo fatto loro la top dai dai se fa se fa prendiamo l'agrand e proviamo a sfarmarli peccato non ce la facciamo col tempo secondo me a fare tutto dovrà essere tre partite oh che cazzo stai fa dimmelo ah ok lo sentivo troppo vicino infatti stavo ricendo di te ecco me la sono ripresa quella stilata proprio di brutto mamma mia che schifo un colpo 20 l'ho preso è morto l'avevi proprio messo one di brutto io mi rifarmo due materiali qua in legno che non so come cazzo sia possibile comunque siamo a 17 kill not bad ah ok top 3 gli ultimi due vittoria o aspettiamo che questi qui si scazzino e andiamo a clean up o facciamo tutto e tutto non è rischioso ce l'hai di fronte eh io sto arrivando caduto 85 buono bello cattivo oh est io questo qui me lo prenderei ma univi non ce l'abbiamo vabbè stia cazzo mancano stilio qua davanti si 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 mancano oh buono ma body o hs body credo io rompo un po' di roba perché non so dove sono 100 in testa buono 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 vabbè ninja un altro 100 ho visto ho visto ho fatto un altro 100 buono 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 infatti mi sa che ora sono a poco sto arrivando anch'io va là magari sono due decenti eh vabbè 20 kill 20 bombe in due salutate youtube perché questo è il video di domani ciao